Giulia Nella questa mattina in Commissione Sanità insieme agli altri sindaci della Marsica per chiedere al Governo regionale, all'Aggiunta regionale, la riapertura dei PPI di Piscini e Tagliacozzo. Come è andata? Sì, diciamo che siamo ancora in corso di audizione e attendiamo le risoluzioni finali. Noi siamo venuti con una delegazione di sindaci a chiedere innanzitutto la revoca di tutte quelle ordinanze e disposizioni dell'azienda Aslo 1 Abruzzo che vedevano la chiusura del PPI di Tagliacozzo e di Piscina proprio nel periodo dell'emergenza. Quindi la revoca di questi provvedimenti, la revoca di una notizia che abbiamo appreso dai giornali e non con comunicazioni ufficiali nella quale si diceva appunto della imminente riapertura il 16 giugno prossimo 21 dei PPI di Piscina e Tagliacozzo ma H12 e non H24. Questa cosa naturalmente sa, l'ho detto già chiaramente di beffa perché se è una questione di sicurezza, la sicurezza va garantita H24 e quindi o la totale chiusura così come era previsto all'inizio oppure un'aria apertura H24 in sicurezza per tutti gli operatori e per tutte le persone, i pazienti che frequentano i PPI di Tagliacozzo e Piscina. Gradivamo la presenza, l'abbiamo richiesta con due note dell'onorevole presidente Marsiglio e dell'assessore Verì che purtroppo non sono presenti in sede di commissione, non lo sono nonostante ci sia un consiglio regionale che sta iniziando e quindi la loro assenza ha miso a tanto disinteresse per una problematica che non il sindaco di Piscina, non il sindaco di Tagliacozzo ma 120 mila abitanti stanno sollevando. Tra l'altro abbiamo raccolto più di 11.500 firme ma stiamo continuando quindi naturalmente le nostre richieste sono ferme. Noi chiediamo oggi assolutamente una data certa, una data certa di ripartenza H24. Non mi soddisfa assolutamente, l'ho appena sentito, il direttore generale dell'ASDottor Testa che dice riapriremo ma non sa quanto. Leggevo domenica in una lettura pomeridiana le ultime ordinanze del presidente Marsiglio, la numero 70 in particolare prevede la riapertura dei Luna Park, la riapertura dei parchi acquatici, la riapertura delle sagre, delle feste, dei teatri, delle associazioni culturali, la riapertura dei centri di bellezza e ahimè del PP di Piscina e di Tagliacozzo non c'è traccia né nelle ordinanze del presidente ma non deve assolutamente esserci ma nemmeno nelle disposizioni che la politica ha dato al direttore dell'ASD. Quindi prendiamo con rammarico questa decisione di non riaprire i PP di Piscina e di Tagliacozzo, aspettiamo l'esito dell'incontro di questa mattina ma non credo che usciremo con una data certa. Quindi naturalmente le firme che abbiamo raccolto continueranno ma ancora di più ci saranno dimostrazioni di piazza perché la popolazione è questo quello che ci chiede perché è esasperata da questa assenza di servizi sanitari all'interno del territorio della Marsica.